L'hanno presa! Cosa? Gli uomini di Morier hanno rapito Stefani al mercato. Morier! Ehi! Fermi dove siete! Ehi! Vi consiglio di stare... Lei dov'è, eh? Provaci. Puoi vederla? Venite. Andrew! Fermo! No! Aspetta! Calmati! Refletti! No! Fermo! Fermo! Ho sentito dire che state pensando di scappare dalla Francia senza rubare l'auto che voglio. State cercando di fregarmi. Lei non è coinvolta! Tutti quanti sono coinvolti. Vi prego! Se non mi portate quella Ferrari d'epoca, del suo bel faccino resterà solo un segno di frenata. Poi ucciderò tutti quelli a cui avete detto anche soltanto bonjour. Moriranno l'uno dopo l'altro in modi così dolorosi che farebbero inorridire anche il diavolo. Mi sono spiegato in maniera abbastanza chiara. Sì. Molto bene. Consideriamo il nostro patto ufficialmente rinegoziato. Sì. 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 Sì.